che numero devo far? 3! 3! un numero solo lasciami finiti 3 – 3 – 4 volte 3 3 – 3 – 3 3 3 – 3 4 volte 3 3 3 3 ma chi lo stai capitan? esera kè chi se far? 3 – 3 – 3 3機會 sto fatto 3 – 3 vedo 4 mentre questa storica finita ci arrivava la tatua 3 marzo del 33 e oggi avresti compiuto 86 anni tanti auguri Thomas